Oltre 460 kg di ascisce e due di cocaina sequestrati e cinque persone finite in carcere è il bilancio della maxi operazione antidroga coordinata dal comando provinciale della Guardia di Finanza di Bergamo. Le fiamme gialle al termine di lunghi appostamenti e pedinamente hanno scoperto che all'interno di un capannone industriale di Bellusco in provincia di Monza Brianza sarebbe avvenuto lo smercio e la compravendita di un ingente quantitativo di droga proveniente dalla Spagna. I militari sono dunque entrati in azione arrestando un rumeno, un magrebino e un cittadino spagnolo. All'interno di un auto articolato sono stati trovati 251 kg di ascisce. Successivamente i finanzieri hanno intercettato un'auto con a bordo altri due complici nordafricani. Ne è nato un inseguimento. Siamo interviuti anche su quest'auto che ha tentato la fuga e ha speronato la nostra autovettuta mettendo a rischio anche la vita dei ragazzi che stavano operando ma alla fine siamo riusciti a bloccare e arrestare anche gli altri due magrebini. Le fiamme gialle poi hanno trovato altri 200 kg di ascisce e 40.000 euro in contanti nascosti in un garage della zona stupefacente che era destinato anche al mercato bergamasco. La stupefacente è proveniente dalla Spagna. Stiamo cercando di trovare eventuali ulteriori collegamenti con altre indagini già svolte in passato che hanno interessato in particolare il territorio bergamasco. Può dire qualche cosa sul valore al dettaglio stimato di questo quantitativo di droga? La qualità è ottima, il valore dipende molto dalla percentuale del principio attivo contenente però possiamo valutare intorno ai 10.000-12.000 euro al chilo.